Attestata una prima volta nel 1152 in un atto con il quale Federico Barbarossa ne confermava il dominio a Guglielmo di Biandrate, il borgo di Riva giunse nel secolo XIII a legarsi strettamente alla vicina città di Chieri. Il suo acquisto da parte del comune dominante risale al 1223 e fu confermato pochi anni dopo con la pace fra Chieri e i Biandrate. Divenuto filo ghibellino, il borgo di Riva fu assaltato dalle truppe guelfe di Ugone del Balzo nel 1318 con conseguenti distruzioni e violenze. Alla fine del secolo, divenuta Sabauda, Riva seguì le vicende Savoillarde, anzitutto attraverso le infeudazioni, da prima a Margherita di Roussion, amante di Carlo Emanuele I, poi al figlio Gabriele di Savoia, fino alla sua morte nel 1695, quando il feudo fu venduto al conte Marcantonio Grosso di Bruzzolo. Nel frattempo, nel 1691, durante la guerra della Lega di Augusta, le armate francesi assalirono Riva e la incendiarono. Anche l'antico castello fu danneggiato dalla guerra e ricostruito dai Grosso negli anni 30 del Settecento su progetto di Bernardo Vittone. L'esaurirsi con la contessa Faustina Mazzetti della dinastia dei Grosso a fine Settecento riportò il feudo ai Savoia, nella figura del duca d'Aosta Vittorio Emanuele. Nel secolo successivo, la demolizione dei risidui delle mura antiche aprì la strada all'ampliamento della città. Una delle conseguenze dell'incendio che scoppiò nel 1691 è oggi la scarsità di edifici medievali ancora esistenti.